Ciao, oggi voglio farvi vedere un circuito HIIT sulla scala. Perché voglio farvi vedere sulla scala? Perché la scala è un esercizio molto, molto buono per andare a lavorare le gambe e i glutei. E in più abbiamo anche l'attività cardio. Quindi venite con me, seguitemi che andiamo a vedere tutto. Partiamo! Sempre con un riscaldamento, quindi qui l'esercizio come primo esercizio sarà molto semplice, basilare. Saliamo un gradino per volta. Ogni esercizio che andremo a vedere verrà ripetuto per un minuto o due. Intensifichiamo ancora e andiamo a salire i nostri gradini questa volta. Non singoli, ma due gradini alla volta. Quindi sempre più difficile. Intensifichiamo ancora e andiamo a lavorare, oltre che la gamba, anche il gluteo della gamba che slancia dietro. Due gradini e slancio della gamba posteriore. Adesso lavoriamo lateralmente. Questo esercizio va ripetuto sia a destra che a sinistra. Ogni esercizio va ripetuto per un minuto se siete principianti o due minuti se siete avanzati. Adesso andiamo a intensificare il nostro allenamento ponendo un bilanciere sulle spalle. I gradini si salgono sempre una volta, quindi una alla volta mi raccomando. E questo esercizio è molto molto intenso, proprio perché c'è il peso del bilanciere sulla schiena. Questo esercizio che andiamo a vedere adesso, con il busto piegato in avanti, invece si va a concentrare molto sulla parte posteriore del gluteo. E per finire è un ottimo esercizio. Ripetete tutto, tre giri. Buon allenamento!